un saluto a voi suggeritemi voi come chiamarvi di oggi siamo tornati a steamworld 2 e adesso dobbiamo trovare tre macchine dell'apocalisse distribuite in tre mondi che abbiamo già esplorato ma che grazie ai nuovi upgrade possiamo esplorare ancora più in profondità ed è un po assurdo pensare che per andare in profondità abbiamo bisogno di una macchina che ci fa volare ma invece è proprio così ed è quello che è successo in questo tempio della guida in realtà non è vero ma va bene pazienza fate finta che lo sia qua mi sa che c'è qualcosa no benissimo è ok niente qua non c'è nulla di interessante a wow 3 dove due cuori e mezzo bruciati così vediamo di raggiungere un po di zone nascoste non c'è nulla non c'è nulla ottimo che il motore si raffreddi anche se siamo solo fermi aggrappati bene ma però mi sa che c'è qualcosa niente benissimo quasi però beccati sta bombetta perfetto granaggio get dot scusate qua nulla qua sotto perché c'è questa cosa qui qua forse bomba niente martellone nulla ok c'è un passaggio lì con una leva con una trappoletta da attivare luce penetra da dove non si sa qua sada scava saturnio ottimo 11 vediamo se c'è qualcosa qua così vediamo 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 nulla bene leva il che significa che devo correre decisamente oh no dai 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 ok wow cosa è successo qua cosa succede interesting very interesting bombetta bene non mi tradisce ok vediamo cosa c'è due stanze bonus che suppongo mi faranno mi daranno accesso a quel passaggio lì sarà un pulsante per ognuna di quelle robe lì e io a quel punto potrò entrare subito il telefono sbloccato andiamo a vendere il nostro turbonio come si chiama titanonio ok quindi 49 perfetto giù però 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 cisterna del tempio segreti 11% aiuto è piena di segreti sta zona allora che fare che fare andare lì o esplorare piuttosto per la zona a destra la zona a destra forza dai questo mi sa tanto di parte legata alla storia mentre a destra chissà cosa c'è ula ula ciup 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 anche perchè c'è un grosso ula 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 ia ia qua niente qua cosa c'è no 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 trunc trunc e via qua potrei lanciargli una bomba giusto per gradire non serve a nulla benissimo ah qua c'è un passaggio per gli arrow per quelle grotte con i funghi che si rigenerano ma lasciamo perdere per il momento vediamo se effettivamente qualcosa su qua c'è però ah ah come fare ah cacchio tiè tiè benissimo ho liberato qualcosa qua sopra 9 ma qua sotto forse si si eccolo qua pillole gialle aggiunto alla tua raccolta piccole gialle proprio come le pillole che dovrebbero essere la descrizione scritta a mano dice semplicemente dr schwester con un pollice in su disegnato è quello che ha detto il medico non so cosa siano comunque ottima scoperta andiamo ancora un po' qua altra area segreta sapevo io che non si andava sbagliando andiamo di spaccare tutto qua ok tic tic tac cosa c'è cosa c'è di nascosto ah si c'è un livello bonus quindi non avevo tutti i torti camera dei segreti interessante ok quello lì bisogna distruggere da là qua chissà cosa succede ah ok trappolona qua nulla labirintico labirintico qua pugnetto pugnetto nulla ah che noia però voglio vedere se adesso io premo il pulsantino ah no è già scattata la trappola quindi niente più problemi dritti allora qui a destra abbiamo questa cosa qui che facciamo oh la ah ah interessante allora proviamo a fare così ah 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 così si dovrebbe funzionare non funziona una cippa quindi nulla di fatto qua ai 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 a se serve un qualche potere diverso mmm fiammella multipla lì non ci sta non ci sta nulla ok qua facciamo così sic piano dotti piano aia ok adesso di qua boing ah pensavo fosse attaccato non pensavo fosse attaccato al muro o di amatriciana però ci deve essere qualche modo per andar lì dentro o per uscire piuttosto potrebbe anche essere così effettivamente qua ci sia un passaggio o qualcosa però fan potrebbe aiutarmi no? so che sei incorporeo ma mmm che roba no troppo veloce misteri misteri ahia l'acqua è lì ahia l'acqua è lì oh cavoli ah non è che ho ok 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 qua c'è questo passaggio c'è questo passaggio che mi permette di tornare su quindi non era un segreto ok allora ahia questo cosa fa? ok tiro su questo questo qua ahia dannaz bene bene quindi si torna giù di qua si va dritti ottime vai questo mi da ben da pensare hai ottenuto il lanciagranate però è diventato lanciarazzi nelle istruzioni interessante proverò tra un attimo ok bomb ah se tengo premuto però le granate a differenza delle bombe mi danneggia no non mi hanno danneggiato in realtà quindi se io faccio così si buono ahia muro illusorio davanti a voi grazie aaaaaa maledetti ahia vecchi inviti mai aperti aggiunto la tua raccolta sogni e speranze pensieri annotati poi lasciati a marcire nella braccia dell'oblio lasciati affrancare ma vedete ci sono sempre queste cose di solitudine non lo so un po' triste qua sopra cosa c'è pericoli vari che dovrei essere in grado comunque di superare grazie al nostro mitico rampaino perfetto perfetto aia ah 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 ma cavoli da calma calma rampainus ottimo grazie mille vediamo se la granata fa qualcosa nooo non così vero buono buono malala 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 così così allora si decisamente si qua sopra c'è nulla nope bene vediamo questa cosa qui zank ne ho tre di nuovo poi cosa succede lancia bomba repressione ah no ma che strano mi stanno di nuovo facendo un tutorial forse perché è il tempio della guida e allora il tutorial è sempre utile voglio capire che la bomba oila questa poi totalmente a caso benissimo non mi lamento comunque ametrina fuori vediamo se abbiamo completato la mappa spero vivamente di sì perfetto e allora qua abbiamo fatto tutto sì perfetto allora torniamo subito in città e un attimo che devo fare una cosa prima è così non è con ci Grazie a tutti. 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 Torniamo qua al villaggio, abbiamo trovato i 22 manufatti e... Ma ora hai tutto questo bel equipaggiamento per te. Guardati bene in tono, ok? Ho venduto tutto, sì, ho comprato anche un potenziamento per la cosa qua, allora... Per l'armatura... Per l'armatura... Qua ci sarà sicuramente nulla... E vediamo un po'... Qui c'è un portaletto... E questo... Dove va fatto cadere... Dove va fatto cadere... Vabbè... Vabbè, prendiamolo lo stesso... Cavaldonato... Interessante... No... No... Così, ma... Così, ma cosa dovrebbe servire sta cosa? Ehm... Fie 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 fie... Questo sembra un passaggio segreto... Ma invece lo è questo sicuramente... Allora... Allora... Se usa il rampino... Abbiamo detto che non li tira... No... Così... Eh no... Distrutto... Ok... Così apriamo di lì... Bene, bene... È già un buon... Inizio... E peccati... No... Va bene così... Perfetto... Allora... Ok... Tu vieni giù... Grazie... Buono... Fa il giro... Sì... Così... E si va a prendere... Questo pezzo bonus... Ottimo... Area segretta scoperta... Ruota del carro... Attraversando vento e pioggia... Molti bot hanno sfidato le loro paure... Gran parte dei loro sogni di fortuna e gloria... Nelle grandi città non sono stati avverati... Finendo sepolti nelle aride dune del deserto occidentale... Le vite dei pionieri è sempre dura... Vero... Così... Un colpo... E quello forse funziona ancora... Sì... E quindi va a bloccare così... Benissimo... E allora... Tendiamoci anche questo ingranaggio... Visto che male non fa... Tempio della guida di nuovo... Ok... Primo livello sbloccato... E spero che ci rimanga... Sì... Pare di sì... Perfetto... Andiamo nel secondo... Camera delle frecce... Suppongo che sì... No... Quello non mi serve... Ok... Peccati questo... Bene... Ametrina... Ok... 1, 2, 3... Via, 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 via... Su, su, su... Perfetto... 3... Veloci, 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 veloci... Corri, 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 corri... bene 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 ma nulla ok oh la la pronto rampino rapino giù rampino ok rampino ancora paglio a qualcosa no nada nella no no la sotto cosa c'è cosa c'è la sotto cosa c'è un segreto un o maledizione vediamo se c'è qualcosa qua no no, non mi convince sta cosa c'è bisogno di acqua o là no 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 ci deve essere qualcosa lì sono contento se non lo scopro qua guardalo lì che si burla di me forse qua no, aia forse qua si razzo giocattolo sogno di raggiungere quella luna che si specchia nel fiume il fiume è dentro di noi, il mare è tutto intorno a noi misteri delle situazioni niente bene eh allora, continuiamo la missione forze, coraggio ma un attimo ok qui abbiamo visto che non c'è nulla mi pare no, non mi servivano davvero ma comunque non importa qua pam 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 vabbè, prendiamo anche la luce visto che ci siamo cosa succede? aha e mo? wow 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 ahiaiaiai ahiaiai ahia quindi di qua perfetto perfetto finite? si optime indranaggio che male non fa ma non vedo null'altro così e vediamo se è completata intanto la caverna perfetto altro pulsantino e via benissimo bene e ok dentro dispositivo della devastazione ok andiamo di nuovo al cospetto di una di queste macchine lì potrebbe nascondersi qualcosa nope qua però si no qua niente ok e allora smontiamo questo e basta curioso è stato piuttosto soddisfacente ora si che si ragiona oh oh l'hai sentito fan? forse non so sembrava una vibrazione muoviamoci distruggiamo i generatori rimasti benissimo allora adesso possiamo andare a Yarrow o addirittura all'altro tempio che vorrei capire ah probabilmente quella zona lì che non ho esplorato del tutto oppure di qua beh c'è quella parte lì che ancora non ha gli manca qualcosa lì forse qui devo controllare queste due zone qua però prima il tempio tempio perché Yarrow è ancora inesplorata quindi preferisco lasciarla per ultima quindi torniamo al tempio soldi perfetto mi preoccupa il fatto che posso spaventare quei ramolliti dei minatori però i nuovi terremoti potenziamenti non ho abbastanza soldi e allora farò qualche ingranaggio novità ok punta filata infligge danni extra nemici il primo colpo non si scorda mai lo attiviamo che mi fa sempre piacere granata ok e poi volevo anche cose che volevo ma non saprei usiamo questo dai e torniamo al tempio al tempio allora prima volevo affrontare di nuovo quella cosa di lava che mi è rimasta ancora qua e mi disturba ok forza Dotti adesso dobbiamo trovare assolutamente dove sta passaggio che chissà dove là guarda allora ok ok aia qua no aia niente non ho idea di dove posso essere dove 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 sei dove sei maledettissimo non si vede vabbè lasciamo perdere queste cose e andremo avanti tra poco col prossimo video se volete iscrivervi al canale saremo molto contenti un saluto da Old Games Italia bye bye ciao 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 Grazie a tutti